questo cos'è di un'autostrada pieno 5.000 10.000 pieno e sì spero che non arriviamo a fare 5.000 euro 10.000 sarebbe sarebbe d'ora questi qua sono abbastanza strani, li ho trovati in Svizzera quei due qua, questa strana è la formula ma il distributore è normale questo qua invece guardate di qui è un self service a 170 chiavi, era nella Svizzera tedesca questo il gestore e come mai così tante chiavi e perché il gestore i clienti fidati a ognuno gli dava la sua chiave ognuno aveva la sua totalizzatore e pagava alla fine del mese. Ah caspita una specie di libretto una volta quando si andava quando andava una volta c'erano i negozi adesso non si fa più c'era il libretto e si pagava a fine mese e quindi qui era un'apertura di conto. Sì poteva andare anche di notte a farsi pieno e poi pagava a fine del mese. Quindi lei dice si fidava. Noi in Italia non li hanno mai messi. Un'indola è diversa. Poi era la chiave che andava a vedere dappertutto. Eh sì. E qui altre ragazze, guarda, per fine d'Italia. D'Italia, i gemelli delle camicie, no, i polsili. Oh caspita. Saponette. Dove c'era il bardo avevano il cuore con il distributore piccolo. Dentro la vita di ogni persona. Fino alla fine. Anche di qui, guarda, facendo orologi. Il telefono a forma d'automobile. Poi piatti, i bicchieri di frutta. Le tagliere con la pistola tipo distributore. Ma no, carina. C'è alcune cose sono particolari, carine. Sì sì, no, ma loro le inventavano tutte proprio. Infatti che qui non l'ho visto qui. Non l'utilizzo, per la prodigialità. Quella lì sono la squadra che sponsorizzavo quando avevo la dita. Ah, ecco. Sponsorizzavo il Comodo Emila femminile. Che in dieci anni ne avevo portato in serie A. Wow. E poi sponsorizzavo la Padernese, perché Palazzolo, una frazione di Paderno Doniano. E Sirme, il nome della dita, era il nome della dita. Poi vabbè, quell'altro le pulcine delle inviate, insomma, arrivavano un po' tutti a fine. Sì, perché qua non ho visto qui dietro. Allora.